Ancora una volta la Palmeco SRL, ditta che si occupa del trattamento di rifiuti solidi urbani provenienti dalla raccolta differenziata e di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, l'ha spuntata dinanzi al Tribunale Amministrativo della Campania. La sezione salernitana del Tar infatti ha riconosciuto l'incompetenza del Comune di Battipaglia che a giugno del 2016 aveva contestato alcune criticità all'impianto battipagliese della ditta Palmeco. Nella torri d'estate di quell'anno, quando i miasmi erano al centro del dibattito cittadino, la Commissione straordinaria che allora reggeva le sorti del Comune sulla scorta di una relazione consegnata all'ARPAC Campania, che evidenziava alcune criticità, preschisse molti accorgimenti per evitare il diffondersi del cattivo odore. Un'azione che tuttavia il Presidente della seconda sezione del Tribunale, Nicola Durante, nonostante l'intervento della stessa ARPAC, non ha ritenuto valida. Nella sentenza infatti si legge Il ricorso è fondato e va accolto, stante l'incompetenza dell'autorità emanante, posto che la vigilanza sulla gestione dell'impianto spetta alla Regione Campania, quale ente che ha rilasciato le autorizzazioni, scrive il Tar. Manca dunque l'indispensabile requisito della contingibilità, ossia della impossibilità di scongiurare la situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi apprestati dall'ordinamento. Sulla scorta di queste considerazioni, quindi, il Tribunale ha annullato l'ordinanza, riabilitando di fatto la società. La vincenda della Palmeco è costellata di altre situazioni giudiziarie. Già a dicembre di due anni fa, il Tar riconobbe le ragioni della stessa ditta e della sviluppo risorse ambientali, annullando un'altra ordinanza, con cui nel gennaio del 2019 il Comune di Battipaglia ordinava l'immediata cessazione delle attività delle due ditte. Anche in quel caso, tuttavia, i giudici accolsero le richieste della ditta, che paventò anche la possibilità di richiedere i danni al Comune.